Amici di Bracciami Ancora, oggi siamo da De Betti, che è una macelleria e una stack house tra le più famose di San Paolo. Vi regaliamo questi tre minuti in quello che è un vero e proprio paradiso per i carnivori. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.